Oggi, 6 aprile 2019, abbiamo un famoso rider davanti, il blu impremiato campione dell'Onduro Campania, Dario e Ruggero che si appresta ad affrontare uno dei trail più belli della Campania, qui a Santo Stefano del Sole. Abbiamo Gianluca Tarno davanti, che già è scappato via, passaggio sulle dadici, poi sicuro, una spadellata di Dario Questo fa parte del gioco, dai! Certo, certo! Ci sei? Vai, vai! A presto! A presto! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti